Benvenuto qui sul palco all'onorevole Gilberto Picchetto Frattin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, benvenuto. Devo dire che quale miglior commento a chiusura di una giornata come questa? Ministro, è stato davvero un momento di riflessione, è vero, ma anche di fissazione di quelli che sono gli elementi che ci servono e i veri e propri strumenti che dobbiamo utilizzare per arrivare a compiere questo percorso perché così l'abbiamo definito la sostenibilità. Sì, tra l'altro è molto bello, è un chiusura di giornata ma siamo alla vigilia della giornata mondiale dell'ambiente quindi è l'avvio giornata mondiale dell'ambiente che in alcune parti del mondo è già cominciata. E quindi noi ci allineiamo al flusso naturale dell'Asia orientale, è già domani, quindi è già 5 giugno. Ma quali sono i percorsi? Parlare di sostenibilità ha un significato molto ampio, ma il significato di una presa di coscienza di quello che è il momento che stiamo vivendo, di una presa di coscienza, ma non è puntuale di momento, a presa di coscienza di quello che è stato un percorso, il percorso del secolo scorso, la ricchezza che si è creata con le emissioni carboniche, con l'utilizzo dei fossili, con i motori, con una crescita popolazione anche molto rilevante e che ha permesso di avere i paesi ricchi e di essere noi, tra quel miliardo di persone rispetto agli oltre 7 miliardi che possono definirsi ricche, che possono permettersi di avere il sottoscritto qui con la cravatta e il signore là che non ha la cravatta. Però lo ha scelto di non mettere la cravatta. Questa è la differenza, banalizzo, ma certamente è quello che caratterizza la nostra differenza. È chiaro che tutto questo ha portato negli ultimi anni, prima, a una presa di coscienza scientifica. Poi, col Trattato di Parigi contro l'inalzamento di temperatura terrestre, c'è stata una presa di coscienza politica. Dobbiamo dire che negli ultimi due anni, tre anni, probabilmente è inciso anche il fenomeno Covid, c'è una presa di coscienza, una percezione che invece comincia a essere molto diffusa. È molto diffusa rendendoci conto che noi dobbiamo, che corriamo il rischio di avere un forte cambiamento climatico, quindi con tutto da conseguenze che ci impongono mitigazione e adattamento, di correre il rischio di avere una perdita della biodiversità. Noi ci troviamo in un paese come l'Italia. L'Italia è in ambito europeo e mediterraneo, forse il paese che ha la maggiore biodiversità. Perché? Perché abbiamo il paesaggio di tutti i tipi. Passiamo dalle montagne più alte d'Europa, dai 4810 metri del Monte Bianco alle più belle spiagge del Mediterraneo. Possiamo dirlo, sì. E naturalmente siamo anche perfino al sud dell'Africa, perché Siracusa è al sud di tutti. Di conseguenza riusciamo a comprare tutto quello che Madre Natura o il Padre Eterno ci hanno dato di migliore e di bello del mondo. Da qui il fatto di renderci conto, di avere questa percezione diffusa, che è diffusa, come ho detto, da prima gli scienziati, Poi una parte del mondo politico, non il mondo, una parte del mondo politico, comunque certamente le coppe, e quando dico le coppe lo dico tutti i paesi del mondo, perché Cov28 ha visto l'impegno di superamento dei fossili da parte di tutti i paesi del mondo, a partire dai produttori dei fossili, e poi naturalmente, diventando diffuso, diventa anche il cogliere e rendersi conto che deve essere un'opportunità per fare un salto. È bravissimo, questa è l'espressione che oggi volevamo proprio sottolineare. opportunità, e ce l'abbiamo fatta in qualche modo anche a dare quelli che sono i punti cardine sulla quale fondare questa espressione, perché è difficile per le piccole e medie imprese guardare a questa transizione come un'opportunità, ma nell'ambito della giornata che è appena trascorsa, abbiamo provato a dare dei dati che in qualche modo dessero un orizzonte di prospettive ottimali dal punto di vista di un modello virtuoso, cioè se oggi faccio questo, domani sarò ancora più competitivo, questo poi è il fine ultimo di quella che deve essere un po' la nostra direzione, cioè sicuramente pensare all'ambiente e pensarlo anche sostenibile per quelle che sono le nostre imprese. Certamente, devo dire che le imprese, gran parte delle imprese hanno colto questo percorso, perché l'hanno colto e lo stanno attuando, anche perché è la scelta di modernità, è la scelta per il dopo e questa scelta per il dopo, rispetto anche a quello che poi è la parte a valle dell'impresa, che è quella del consumo, significa creare le condizioni di apprezzamento da parte del consumo. Tanto la posso tradurlo così, se c'è il greenwashing è perché il prodotto è buono, ma di conseguenza ecco perché il mondo del fashion, ad esempio, è uno di quelli che per primo ha colto questo prodotto, perché la differenza è data in questo caso da un fattore qualitativo, e il fattore qualitativo che può essere intrinseco naturalmente, che riguarda i materiali. pensate ai 100 miliardi di pezzi all'anno del mondo del fashion, sono 100 miliardi all'anno i pezzi stimati, e naturalmente lì c'è tutto un fronte di alta qualità, e purtroppo c'è un fronte che invece dobbiamo accompagnare a fare il recupero. Il recupero significa naturalmente raggiungere gli obiettivi qualitativi, e significa da altra parte anche il recupero, proprio come il riuso, il riutilizzo, e naturalmente il trattamento per evitare la dispersione. E dunque un'azione duplice, quella di nuovo modello e quella di recupero di un modello che c'è, è esistente, ma questo non significa che debba rimanere così perpetuamente, insomma bisogna attuare dei cambiamenti anche su quelli che sono dei modelli che bene o male abbiamo sempre lasciato passare e correre, e ora invece dobbiamo guardare con un'ottica di evoluzione. Dunque, lo abbiamo detto prima, siamo davvero all'alba di quella che è una giornata, che però ovviamente significa un impegno costante, cioè non si può tradurre in un impegno di 24 ore, ma anzi queste 24 ore devono essere moltiplicate per ognuno degli sforzi compiuti per arrivare fino a questo punto e per puntare a avere una giornata mondiale dell'ambiente che però ci dia non un peso ancora di paura, di terrore e anche un po' di spavento rispetto a quello che è il futuro, ma che ci faccia invece pensare a tutto ciò che abbiamo conquistato. No, è chiaro che proprio perché l'abbiamo conquistato, proprio perché siamo in questa realtà ricca, noi per primi dobbiamo percepire quella che è la necessità di fare i passi avanti, di aiutare chi i passi avanti ce l'ha più difficoltosi. Uno degli impegni che abbiamo come paese, con il fronte che è sorto, ha avuto la nascita con il G7 Ambiente ed Energia, è stato l'impegno assunto da tutti i sette paesi del G7 di adottare un paese in via di sviluppo in un accompagnamento ambientale. E questo è un percorso, lo annuncerà naturalmente il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al G7 dei leader e anche l'Italia adotterà un paese dell'area africana proprio per un accompagnamento ambientale, per un aiuto, una crescita, che come dico è una crescita economica, una crescita sociale, una crescita culturale, ma naturalmente la crescita economica è affiancata da un cambiamento dei modelli rispetto al passato. Il cambiamento dei modelli, io ho ambiente ed energia, ma l'intervento sull'ambiente lo posso fare in modo forte cambiando il paradigma dell'energia. Io davvero chiederei un grande applauso per quello che è la rappresentanza di un obiettivo comune, quello di un governo e sicuramente di una sfida, quella che ci pone poi alle porte di una nuova Europa questo nuovo momento nella quale stiamo entrando. E dunque ringrazio davvero tanto il nostro Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Frattin, grazie per essere stato con noi onorevole. Grazie a voi. Grazie di cuore.